Musica Buongiorno e benvenuti a Mattino 6, il nostro quotidiano appuntamento con la Rassegna Stampa. Il mercoledì 25 settembre andiamo subito a scoprire cosa è successo in Abruzzo e nel mondo dalle prime pagine dei quotidiani a partire da quelli locali, in particolare dal centro. Parla 17enne ferita sul pullman, intervista la studentessa che ha perso il piede, finirò la scuola e andrò a lavorare a Dubai. Nel taglio alto il referendum 3 sì di Forza Italia non bastano alla Lega e per quanto riguarda la politica nazionale Conte ora un patto con gli onesti sulle tasse. Caro vita, bollette a ottobre aumentano gas e luce. A centro pagina la fotonotizia è dedicata al Pescara che ieri è sceso in campo contro il Cittadella, un Pescara molle e finisce KO, sconfitta per 2-1 a Cittadella. Brilla Macin, autore del gol. Ma ancora sull'Abruzzo Mancini si sfoga, ASL in tre anni, bilancio risanato per quanto riguarda il direttore dell'ASL di Pescara che ha concluso anticipatamente il suo mandato per volere della giunta regionale. A Francavilla pochi autobus per Pescara, studenti a piedi. Andiamo avanti sulla prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto. È morto il cameriere precipitato, a Lanciano non ce l'ha fatta, il 26enne è caduto alla nottata, sì alla donazione degli organi. A San Martino, multato, offende la vigilessa e ora va al processo, a Chieti frana la collina, comitato per salvare le case. La fotonotizia è dedicata al Marruccino, il celebre teatro di Chieti. In 200 si candidano per 13 posti per quanto riguarda le assunzioni al teatro Marruccino. Passò con il rosso e uccise due giovani, a San Salvo accusato di omicidio a stradale, l'automobilista che travolse Emiliana e Marco. La prima pagina di Teramo, raccolgono funghi velenosi ma sono salvi. La forestale sequestra il carico a cercatori senza tesserino, evitato l'avvelenamento. Concorsi ASL in più di mille al Palasport a Teramo, a Unictus a Montorio, il cane abbaia e lo salva. Oggi si gioca anche la Serie C, Tedino cambia il Teramo, anti Viterbese. La fotonotizia è dedicata a Pineto, che è diventata meta per matrimoni tra inglesi, secondo il centro. E lettere di minacce a due consiglieri a Santomero, un anonimo cerca di intimidire, Erika Celestini e Nadia Ciprietti. La prima pagina all'Aquila Avezzano sul Mona, il ministro a Biondi, fai il festival. L'Aquila sul decennale, Franceschini scrive al sindaco che replica, non è informato. L'Aquila sempre a Diotti Boni, con i regmisti in lacrime. Ad Avezzano PD e liste civiche, grandi manovre verso il voto. La fotonotizia è dedicata alla transumanza, a settembre non può che essere così. La transumanza moderna unisce Campo Tosto a Matera. Morte in clinica, scattano i sequestri. A Celano acquisite le cartelle per fare luce sulla tragica fine del 59enne di Tagliacozzo. Ed eccoci giunti sulla pagina del messaggero dedicata alla nostra regione, referendum regione in stallo. Legge elettorale, la Lega vuole approvare la richiesta di modifica. Caos all'emiciclo, il consiglio rinviato a più riprese per tutta la giornata. Domani scontro finale in aula. E per quanto riguarda l'Aquila, Franceschini si faccia il festival con Saviano e Zero Calcare. Festival che ricordiamo è boicottato dal sindaco del capoluogo, proprio per la presenza di questi ospiti. Il PD caccia ancora ferma la giunta in confusione. Caduto per vedere i fuochi artificiali, Antonino è morto. Il dramma durante le feste di Lanciano, la famiglia dice sì all'espianto degli organi a Chieti. Spaccio di coca in carcere, agente a giudizio. Anche qui la fotonotizia dedicata alla serie B, Pescara KO. Il cittadella resta un tabù. A Pescara sulla riviera sigilli al giambo per fallimento. Il celebre stabilimento sulla riviera di Pescara Nord. La città, il quotidiano di Teramo, la Pedemontana, punta in Valfino. Intanto il governatore Marsilio incontra Anas per completare il tratto tra Garrufo e Castel di Lama. Nel taglio alto i controlli dei carabinieri forestali, inesperti e senza tesserino, raccolgono funghi velenosi. A Giulianova, ultimatum al condominio solitale. A Roseteo degli Abruzzi, pali cadenti, project alla Menovat. Per quanto riguarda la fotonotizia, il concorsone superato al Palasca, dove si presenta la metà degli aspiranti al posto fisso. Ad Atri, la Lega dice no alla discarica. Interessato l'assessore all'ambiente, Nicola Campitelli. E a Teramo, sempre polizia arrestata, arresta uno spacciatore creativo. Polizia arrestata, una contraddizione in termini. Ma andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, a partire dal Corriere della Sera. Negozi e contanti, ecco cosa cambia. Bollette più care per luce e gas, lite premier Salvini, spieghi il caso Russia, la replica e lui i conflitti di interesse. Piano antievasione di conte, bonus, scontrini e sgravi per chi usa le carte di credito. Sale la spesa pubblica e manca a chi controlla. In due anni è cresciuta la spesa pubblica del 5%. Intanto l'indiscrezione del Corriere, Assemblea dei senatori 5 Stelle, un blitz anti Di Maio, lasci da capo politico. E per quanto riguarda l'oltreoceano, i democratici degli Stati Uniti, sì all'impeachment contro Trump. Mentre per quanto riguarda la Brexit, la Corte Suprema boccia Johnson. La fotonotizia è dedicata al stadio di Milano, San Siro, che non si è ancora deciso se dovrà esserne costruito uno nuovo. Intanto due progetti in gara per l'impianto di Inter e Milan. La Repubblica, piano di conte, meno contante per la lotta all'evasione, bonus fiscali per chi paga con la carta di credito e lotteria degli scontrini. Il Premier lancia il patto con gli onesti e ribadisce manette ai ladri di tasse. Migranti nell'accordo di Malta, linea dura contro le ONG. Nella fotonotizia c'è il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, primo passo verso l'impeachment. E questa è la notizia che arriva dall'altro lato dell'oceano. E c'è anche l'intervista al Papa che ha dichiarato la xenofobia distrugge l'unità dei popoli. Ed ecco anche il libro su Piazza Fontana, ecco perché fu strage nera l'attentato dell'avanguardia neofascista con le implicazioni dello Stato. Il Fatto Quotidiano, Renzi a caccia di soldi, inchiesta sui fondi della Leopolda, si cerca il tramite Donnini. Toto crea una nuova fondazione, una SRL con un milione dalle conferenze. Ovviamente il soggetto è l'ex Premier Matteo Renzi. E parla ancora Minniti, l'ex Ministro dell'Interno del PD. Passo avanti sugli sbarchi, ora aboliamo la Bossi Fini. Sul taglio alto un patto anti-evasione. Chi sgarra va in galera, lo ha detto Conte. Si studiano le soglie di punibilità. Non saranno alte. È stato mafia, Berlusconi da buca e non difende Dell'Utri. Niente deposizione. È impegnato in Europa. L'ex Premier si sfila grazie al seggio a Strasburgo. I suoi legali stanno verificando in che veste sarebbe sentito. Il problema è se sarà solo un testimone o se invece indagato a Firenze per reato connesso per la trattativa Stato-mafia. Andiamo sul libero. Italia povera. Italiani, ricchi, europei, messi peggio di noi. L'Agenzia dell'Unione Europea che valuta il rischio fallimento degli Stati fa la lista nera dei cittadini più indebitati. Ci sono 11 paesi nei guai, tra i quali Germania, Francia e Olanda. Ma non il nostro. E la fotonotizia è dedicata a Greta Thunberg. 500 scienziati rivelano che Greta non sa nulla. E infatti è una ragazzina e non una scienziata. Dati positivi sulla salute. Il mondo è talmente inquinato che i tumori iniziano a diminuire l'ironia di Libero sul climate change. Ed eccoci sul manifesto che a proposito di cambiamenti climatici a questo tema dedica la fotonotizia. Ghiaccio fuso. Il ghiacciaio Planplinceutz sta per staccarci dal Monte Bianco. Una massa di 250 mila metri cubi rischia di precipitare da un momento all'altro. Si scioglie al ritmo di 50-60 centimetri al giorno. L'allarme nei giorni del deludente su Mittonu, sui cambiamenti climatici. E' Trump inno sovranista all'ONU, ma il presidente rischia l'impeachment per la telefonata ucraina. Allarme Italia perché l'immigrazione è necessaria. L'articolo di Piero Bevilacqua. E' Bolsonaro show. L'Amazonia la proteggo io. Ma sempre per quanto riguarda gli esteri, Regno Unito, schiaffo a Boris Johnson, sospensione fuori legge. Il messaggero sconti IRPEF contro l'evasione. Conte patto sul fisco con gli italiani onesti in misure radicali per pagare tutti meno. Il piano del Ministero dell'Economia ha detrazioni fiscali solo a chi utilizzerà il Bancomat o la Carta Unica. Provvedimento questo che oltre a combattere l'evasione però rende tutto estremamente tracciabile. La rivolta dei 70 senatori anti Di Maio. Un documento contesta la leadership, capogruppo 5 Stelle, scontento degli esclusi dal governo con il PD. La fotonotizia è dedicata alla geopolitica, alla corte inglese e lo boccia e democratici. Impeachment per Trump. Schiaffo a Johnson. Deve riaprire le camere. Giungla capitale. Il comune assume giardinieri invalidi. Reclutamento beffa per affrontare l'emergenza. Un addetto su tre non può nemmeno maneggiare gli attrezzi. Anche qui la questione del ghiacciaio sul Monte Bianco. Abitazioni evacuate. Crolla il ghiacciaio ed è allarme. La corte di Assise per quanto riguarda l'associazione mafiosa ha dei delitti alla testata di Ostia. Tre ergassoli per esponenti del clan Spada. Ed eccoci sul mattino di Napoli. Calano i malati di tumore ma al sud si muore di più. Gli oncologi nel 2019. 371 mila nuovi casi. 2 mila e meno. In calo neoplasie di colon e stomaco per gli uomini. SOS. Polmone. Andiamo avanti. La fotonotizia. L'arco dei Borboni sta crollando ma il Ministero blocca il restauro. La Napoli svilita. L'ite provincia sovrintendente. E intanto ancora la questione economica. Il piano dei trazioni sulla chiusa il Bancomat. Sia gli sconti IRPEF per combattere l'evasione fiscale. Conte sarà un patto con gli italiani onesti. 5 Stelle la rivolta per commissariare Di Maio. E intanto la decisione della Corte. Brexit senza pace. Ora Johnson deve riaprire le camere. Anche qui il riscaldamento climatico. Il ghiacciaio del Monte Bianco che rischia di travolgere la valle. Andiamo sul sole 24 ore. Il quotidiano di Confindustria. Patuanelli, incentivi e investimenti verdi. Impresa 4.0 triennale. La fotonotizia Facebook e il PC attivato con il pensiero. È stata acquistata la start-up che studia la connessione celebrale. Intanto per il caso Ucraina Trump è sottotiro. Democratici pronti all'impeachment. E intanto per questo Wall Street va giù. E Palazzo Chigi, direttiva Conte sui decreti. Altris più coordinamento da parte del Presidente del Consiglio. Dei ministri, entrate. La pagella fiscale è insufficiente. Non fa scattare controlli automatici. Pronta nota dell'agenzia. Sciopero commercialisti. Si apre uno spiraglio. E la Brexit illegale lo stoppa al Parlamento. Buffera su Johnson. Io non mi dimetto. Andiamo avanti sulla verità, diretto da Maurizio Belpietro. Gli affari miracolosi di mister Leopolda. I 70.000 euro che diventano un milione. Nelle carte le soprintendenti plus valenze, realizzate da Patrizio Donnini, il comunicatore dei primi raduni del Bull. Ovviamente è il riferimento a Renzi. Donnini ha comprato 5 aziende, le ha rivendute a 15 volte tanto e 200.000 euro dei Toto sarebbero finiti ai comitati per il sì al referendum. Toto che ricordiamo è anche il patron di Strada dei Parchi, le autostrade che interessano l'Abruzzo. Nella fotonotizia a confronto la Boldrini e Rosi Bindi, operazione simpatia del PD, tornano Boldrini e la Bindi. Giuseppe Bifronte, ma contensiste sul Russiagate, Salvini venga a riferire in aula, cosa che ancora non è stato fatto. A Bibbiano il 5 Stelle sta col partito di Bibbiano. Adesso è ufficiale, in Emilia Romagna a voto il 26 gennaio, il presidente Bonaccini apre alleanza con i grillini. La Nemesi verde, Greta Thunberg, ora che Greta attacca Parigi, Macron frigna. Così divide la società. E mentre tutti parlano di ambiente, salgono le bollette di luce e gas. Ottobre rincari oltre il 3%. L'Unione Europea sa guardare al passato solo per condannarlo la discussa risoluzione che equipara nazismo e comunismo. Una risoluzione approvata dall'Unione Europea, inizialmente passata nel silenzio. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa sul tempo. Si parte con l'aumento di luce e gas rincari da ottobre stangata sulle bollette di elettricità e sul metano. Ci stacca la spina pure la Francia che fa calare la produzione delle sue centrali nucleari. A centropagina immancabile la vignetta in Romanaccio di Oscio, ma un altro oltre me ci rimane dentro a sto bip dell'EU, sembrerebbe dire Pietro Grasso alla Boldrini, Boldrini nel PD al posto della Boschi. Ed è stato proposto un comitato a 13, fronte interna ai 5 Stelle per defenestrare Di Maio e medici cattolici contro l'eutanasia. Oggi la consulta decide sul suicidio assistito, quella che potrebbe essere una svolta per quanto riguarda una delle questioni bioetiche principali del nostro paese. Domani sciopero dei bus, troppi autisti aggrediti, stop di due ore dalle 10 alle 12 per i conducenti Atac, Roma TPL e Cotral che chiedono cabine blindate. Andiamo avanti sulla stampa Di Maio rischio Siria per la Libia. Migranti, primi dubbi in Europa sull'accordo di Malta, molte capitali pronte a proporre modifiche. All'ONU il duello USA-Iran, Trump regime assetato di sangue, mentre Roani si difende l'America è distruttiva. Il ministro degli esteri a New York sollecita una risoluzione politica. L'Unione Europea parli con una sola voce. E intanto i democratici chiedono l'impeachment per il caso Ucraina e democrazia e scienza diventano inseparabili, così il sapere ci salva. Il ghiacciaio del Bianco scivola a valle, chiusa la Val Ferrette. Il ghiacciaio del Monte Bianco ora minaccia le abitazioni, ma minacciano le abitazioni appunto per lo scioglimento a causa del cambiamento climatico. Il secolo di Francesco Sorace, ONG e ONU contro l'Italia. Ci mettono nel mirino per i diritti umani, noi paghiamo e veniamo presi a schiaffi nel mondo. In primo piano sul secolo sempre il commento della Meloni, presi in giro sui migranti. Meloni smonta l'accordo e Trump è sferzante all'ONU. Futuro è dei patrioti. Renzi provoca Di Maio, Boschi sarà capogruppo. Ed eccoci sul secolo XIX, sconti e premi a chi usa il Bancomat. L'obiettivo è quello di recuperare 5 miliardi l'anno, tra le ipotesi carcere per chi froda il fisco e una lotteria sugli scontrini. Piano di Conte per battere l'evasione fiscale, risparmi fino al 10% sul denaro elettronico. Il Premier faremo un patto con gli italiani. Bollette e la luce aumenta del 2,6% e il gas del 3,9%. Il basilico si salva ma cambia un po'. E' questa la fotonotizia dedicata a quello che letteralmente è l'erba del re. Il basilico cambia un po' sapore per salvarlo dalla peronospora. Gli esperti usano un antico seme Ligure. Test positivi. Il gusto è diverso. Andiamo avanti sull'avvenire quotidiano di ispirazione cattolica. La fotonotizia è dedicata anche qui all'ambiente, ma non al Monte Bianco, ma al Brasile. Bolsonaro rivendica l'Amazzonia non è dell'umanità. Il presidente brasiliano insiste sulla sovranità e Trump non parla di ambiente. e fa discutere la giustificazione per lo sciopero di venerdì. Attesa per la vita dopo l'udienza pubblica, stamane la Camera di Consiglio. Le diverse ipotesi sul verdetto. Stiamo parlando ovviamente di suicidio assistito. Oggi la sentenza della consulta su un crinale pericoloso. Non potrebbe definirlo altrimenti il quotidiano cattolico. La Giovanni XXIII. I disabili vanno difesi, non messi a rischio di essere terminati. Ma ovviamente non si tratterebbe nel caso di eutanasia di eugenetica contro i disabili. Così in Olanda dare la morte è diventato normale nell'indifferenza generale. La denuncia dell'avvenire è meno 2000 casi, screening ok, tumori e decessi per la prima volta sono in calo. E il Papa ci ricorda che grazie a Cristo si va fuori dall'inferno. Leggiamo anche le notizie per quanto riguarda lo sport. A partire dalla Gazzetta, che titola sulla Juve, Pjanic di volo, un'altra rimonta e sorpasso in vetta. La Brescia a gran gol del centrocappista è 2-1. I bianconeri vanno sotto, rischiano, ma poi crescono e ribaltano la partita. Il bosniaco è bersaglio di cori razzisti. Conte, Inter, dammi il 5, con la Lazio per la quinta vittoria di fila e per riprendere la testa, messi KO e Champions a rischio. Sul taglio alto la questione dello stadio di Milano, San Siro futuro con le guglie di vetro e due anelli intrecciati. Andiamo avanti, è allarme e razzismo. L'Italia si muove dopo gli ultimi vergognosi casi e le accuse di Infantino e Mancini. Oggi il vertice tra il ministro Spadafora e Gravina, nuove misure in vista. E anche la denuncia della Orro, la celebre pallavolista, mesi di molestia, la pallavolista della nazionale Stalker, in garera. L'arrestato a precedenti con altre due donne. Ed eccoci sul Corriere dello Sport, Avanti Pjanic, Juve 2-1 a Brescia. Decide Mire, Donnarumma segna subito con Papera di Szczesny. Scusate per la pronuncia. Poi l'autogolle e la prodezza del bosniaco Balotelli ancora in ritardo. Nel taglio alto, Conte tra nemici e Zaccagnate. L'Inter contro la Lazio cerca la quinta vittoria di fila. Il tecnico attacca, ci aspettano al Varco per darci una mazzata. Napoli, Mertens vede Maradona. Ciro guida l'attacco azzurro all'assalto del Cagliari. Gli bastano due gol per raggiungere Diego a quota 115. Paolo, l'italiano, ora sfida Gasp, reduce da tre vittorie consecutive. La Roma all'esame Atalanta. Fonseca, così mi sono adattato alla Serie A. Vediamo anche il Tris Perugia. Anesta è in crisi per quanto riguarda la Bilfro. Sinone cade al Curi 3-1. Tecnico sotto processo, colpo del Crotone, che sarà la prossima sfidante del Pescara e pari del Benevento. Tutto sport, più Pjanic, più Juve. Sul campo di un ottimo Brescia, i bianconeri vincono ancora in rimonta per 2-1. Dopo la rete firmata da Donnarumma è propiziata da una papera di Scesni. Il pari arriva su autogol di Cancelor. Decide la prudezza di Miralem. Sarri solo in testa, aspettando Inter-Lazio. E anche qui San Siro, pazzesco. Ecco cosa prevedono i progetti. Due grattacieli al posto di San Siro. Verdi, prove da titolare per quanto riguarda il Torino. Mazzarri lavora al lancio del Fantasista contro il Milan. E Conte caccia i fantasmi. Il tecnico come Murigno ci lodano apposta per poi saccagnarci. Ma anche la Formula 1, Ferrari d'assalto dopo le tre vittorie. La rossa guarda con fiducia al Gran Premio di domenica. Per quanto riguarda il volley, l'Italia va a casa. Li azzurri schiantati dalla Francia nei quarti dell'Europeo. E per la prima parte della nostra rassegna è tutto. Io vi lascio alle previsioni del meteo. Ma rimanete con noi perché subito dopo la pubblicità andremo a sfogliare pagina per pagina i quotidiani abruzzesi. A tra poco. Di nuovo in studio con la rassegna stampa di mattino 6. Mercoledì 25 settembre. Andiamo ora ad approfondire le questioni che toccano da vicino il nostro Abruzzo. Per quanto riguarda la nostra regione arrivano dati allarmanti sul mercato del lavoro. Lo leggiamo sul centro. Regione nel guado, giù, pil e occupati. Analisi della CISL e dell'economista Mauro. Sono 10.000 i posti in meno nell'industria e 3.000 nelle costruzioni. 1.000 nei servizi. E per approfondire questa questione che tocca agli abruzzesi da vicino vediamo il nostro servizio. Professor Mauro, qual è la situazione per quanto riguarda l'occupazione nella nostra regione? I numeri non sono del tutto incoraggianti. Ma io direi che i numeri sono anche sorprendenti ma purtroppo in senso negativo. In senso negativo perché l'occupazione è scesa del 2,7% che significa più o meno 14.000 unità lavorative rispetto al periodo precedente, cioè il 2018 secondo trimestre. E all'interno di questo dato generale che colloca ovviamente l'Abruzzo in una posizione di retroguardia rispetto alle altre regioni e c'è il dato del calo del settore industriale, del settore manufatturiero di circa 10.000 unità. Il che significa che noi abbiamo delle aree in generale, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie imprese, che oggi si trovano in una situazione di sofferenza. Questo per quanto riguarda l'occupazione. Per quanto riguarda viceversa l'altro dato che è poi le esportazioni importanti perché ci danno il senso di competitività, ormai è un patto noto ogni volta che ci incontriamo, però questo processo di concentrazione cresce di volta in volta. Oggi i mezzi di trasporto hanno un'incidenza sul totale esportato del 53%, cioè oltre la metà delle esportazioni abruzzesi sono in mano ai mezzi di trasporto. Alla luce di una situazione almeno a livello occupazionale non positiva, qual è il ruolo dei sindacati e cosa chiedete alla Regione? Il ruolo del sindacato è chiaramente quello di cercare di garantire occupazione, sviluppo, crescita della nostra Regione. Per fare questo c'è necessità impellente di avere confronti sistematici con la politica e con la Giunta regionale, che noi abbiamo chiesto da tempo ma che purtroppo al momento attuale è ancora assente in termini organici. Da questo punto di vista ci sono scelte importanti da fare, sia dal punto di vista emergenziale, sia dal punto di vista dello stato di fatto che ha il sistema produttivo, nel senso del mantenere le grandi imprese ma anche cercare di incentivare e rafforzare le piccole e piccolissime imprese, le imprese artigiane che sono in grande sofferenza. Ma anche guardare al futuro, capire quale deve essere il futuro del nostro Abruzzo vuol dire creare un sistema infrastrutturale valido che dia impegno e soluzioni produttive sia alle aree costiere che alle aree interne. Questo in questo momento manca, nel dibattito ci sono idee diverse. C'è bisogno di confrontarsi ma di avere scelte che diano risposte soprattutto alle aree interne, che sono quelle più in sofferenza e che in questo momento non hanno ancora risposte dalla politica regionale. Torniamo sul centro perché intanto in Abruzzo lo Stato vende immobili da 872 mila euro. Per quanto riguarda la viabilità e le infrastrutture, Marsilio incontra i vertici di Anas. Il Presidente sottolinea la necessità di interventi sulle strade statali. Andiamo avanti, referendum, festa rovinata per la Lega. Il carroccio incassa solo sulla carta, tre siti di Forza Italia, ma non bastano. I 5 Stelle bloccano e fanno rinviare l'operazione elettorale dopo che il capogruppo Bellachioma aveva annunciato che l'Abruzzo sarebbe stato capofila nel referendum leghista per cambiare la legge elettorale. Quindi finora Salvini non c'entra l'obiettivo nemmeno nelle altre regioni. Regione, arriva il verdetto su Maschitelli, Spool System. Il giudice decide per il caso dell'Agenzia Sanitaria, Marsilio fa altre tre nomine di peso. Fracassi, vogliamo avere rapporti diretti con l'Unione Europea. Il Presidente è in pectore dell'industriale abruzzesi, sì a imprese più digitali. Il nostro sarà un lavoro di squadra e puntiamo su nuovi sistemi di finanziamento. E per quanto riguarda il calendario venatorio, caccia, il Tar decide la data di riapertura, stagione venatoria oggi la pronuncia, Pepe Brasioli, regione bocciata e doppiette penalizzate. Andiamo su Pescara, il racconto della studentessa coinvolta nell'incidente della settimana scorsa. La ragazza ferita nell'autobus, voglio studiare e andare a Dubai. La diciassettenne di Pianella che ha perso un piede dopo il terribile incidente di una settimana fa, confida al centro le paure di quei momenti e i progetti per il futuro. Adesso ricomincia un'altra vita. Intanto sospiri e mazzocca regolari le inchieste di rateizzazione. Nell'udienza di ieri ascoltati, come test della difesa, il direttore ACA e l'addetta alla gestione dei debiti, oltre al presidente del Consiglio regionale, all'ex assessore Mazzocca, imputati i vertici della società. Intanto la polizia di frontiera scende dall'aereo senza soldi e documenti. è stata rispedita a casa dall'aeroporto di Pescara. L'abruzzese Giuseppe Di Fabio racconta il suo incubo dal Venezuela a Pescara dopo arresto e torture, l'endorsement a Gaidò. Via Gioberti, lavori per il senso unico, nuova viabilità davanti alla scuola Pescara, la novità dal primo novembre. Il cantiere avviato ieri prevede anche altri dieci posti auto. Ma intanto intervento da 300 mila euro, quello proposto dal PD che riguarda il clima, che propone alberi, bicibus e orti. Asl, parla il direttore generale uscente Mancini, in tre anni ho risanato i conti, pronto a fare ricorso. Il manager mandato via dalla regione quasi due anni prima snocciola gli obiettivi raggiunti e ringrazia tutto il personale. Ci sarà spazio più avanti per approfondire questa questione. Per il momento andiamo avanti. Pescara è capitale del canottaggio. In arrivo ben 600 atleti. Le gare si terranno nelle acque antistanti la nave di Cascella. Importante occasione di rilancio per il circolo canottieri pescarese. A Montesilvano, la nostra riviera senza marciapiedi e con il senso unico. Dopo il successo del Giova Party, l'assessore all'urbanistica annuncia i progetti in vista della prossima stagione estiva. Acquedotto da riparare. Oggi sono dieci comuni a secco. Riparazioni urgenti sull'adduttrice del tavola. L'ACA annuncia lavori urgenti. Via all'acqua dalle 8 alle 17. Sono circa 50.000 gli abitanti interessati dal disagio ed incidente a Pianella. In gravi condizioni il 19enne ferito. E una notizia culinaria. Anche se non è un pasto perfettamente adatto alla colazione. Però il brodetto super viene da vasto. Montesilvano al concorso regionale vince lo chef della trattoria. Zia Albina. Pochi autobus per Pescara. Trasporti ancora nel caos. A Francavilla continuano gli saggi per gli studenti dell'istituto alberghiero De Cecco. Non ci sono ancora le corse bis della linea 21 per far arrivare in orario gli alunni. Provocò l'incidente mortale il 5 novembre. Rirrito abbreviato a tocco da Casauri ha accolta la richiesta del trentenne che guidava l'auto su cui morì Caterina Pettinella. Era la sera dell'11 giugno 2018 con loro una coppia di sposi in viaggio di nozze finita in ospedale. Finisce in una scarpata per recuperare il cane successo a Farindola. Il 69enne è uscito da casa per cercare i tartufi. È stato rintracciato dopo sette ore. Ed eccoci a Chieti. È morto il ragazzo precipitato nel vuoto. Il cameriere di 26 anni si è spento in ospedale 10 giorni dopo la caduta. La famiglia dice sì alla donazione degli organi. A San Martino sulla Marrucina multe offende la vigilessa automobilista sotto processo. Passò con rosso poi lo schianto mortale. A San Salvo un anno fa la tragedia di Emiliana Colitto e Marco Forlano. Indagato per l'omicidio stradale l'automobilista che travolse la moto. E a Santa Maria in Baro un'offerta per il Negri Sud a fare da 10 milioni di euro. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Siamo a Teramo sul centro. Sequestrano 50 chili di funghi tra porcini, esemplari velenosi. Operazione di carabinieli forestati nel parco Gran Sasso Laga. Necessi anche la letale amanita falloide. Controllate 200 persone, 15 raccolitori multati perché sprovvisti del tesserino. E intanto l'inchiesta all'Islam Radicale. La difesa chiede il dissequestro delle case. Andiamo avanti. Pineto, matrimoni tra coppie inglesi sempre più frequenti. Intanto un altro no al progetto della discarica di Atria. Arriva dalla Lega. Siamo contro l'ampliamento della discarica. E torna a Silvi il nonno vigile. Il servizio di sorveglianza davanti alle scuole sarà gratuito. Pensionati utilizzati per il corpo di polizia del comune. All'Aquila Franceschina Biondi. Fai questo festival. Il ministro scrive al sindaco. La manifestazione si deve tenere senza ingerenze. Biondi il capo Mibac. E male informato. Vacca. La cultura va liberata dalla politica. L'ex sottosegretario Plaudia Franceschini. La presidente TSA De Simone. Ora Toni Bassi e Lavorare. All'Aquila Carcio. Dirigenti Ultra si dimettono. Lasciano presidente e segretario. Dopo i dissidi tra gli stessi tifosi. Per la guida del club spunta ora Marrelli. Morto in clinica. Sequestrate le cartelle. A Celano in l'indagine punta a escludere eventuali negligenze. Sul corpo del dipendente Enel di Tagliacozzo sarà eseguita l'autopsia. Per quanto riguarda il comune di Sulmona fumata bianca Fauci al posto di Ranalli. Andiamo avanti. Prima di leggere lo sport sul messaggero. Referendum elettorale. La Lega tira dritto. Maggioranza a rischio. Rapporti tesi con i consiglieri di Forza Italia. Contrari al provvedimento. Giornata di rinvi in consiglio regionale. Poi spostato a giovedì. Piano di riordino della rete ospedaliera. Il tavolo di verifica sono troppi i ritardi per quanto riguarda la sanità. Ma vediamo anche la questione del mercato del lavoro. Pile disoccupazione. Nuovo allarme per l'economia abruzzese. A Pescara lascio bilancio sano senza taglia ai servizi e nuove attrezzature. Il bilancio di Armando Mancini, manager della ASL licenziato. L'azienda è paralizzata da mesi dopo le voci del siluramento. Sì, perché ieri si è tenuta questa conferenza stampa all'ASL di Pescara dove la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Nicoletta Averi, ha deciso che il mandato di Mancini dovrà concludersi anticipatamente. Nel giorno conclusivo del suo ruolo da direttore generale ascoltiamo cosa ha detto Armando Mancini. Armando Mancini saluta l'ASL di Pescara. La giunta a Marsilio infatti ha deciso di porre fine prima del tempo al suo mandato di direttore generale. Non ha raggiunto gli obiettivi preposti, ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Averi. Ma nella conferenza stampa indetta da Mancini, nel suo ultimo giorno da direttore, l'ormai ex numero uno della sanità pescarese ha fatto un bilancio del suo mandato raccontando ai giornalisti i traguardi raggiunti. Oggi noi presentiamo quello che è un bilancio di mandato perché il mio mandato volge al termine e quindi mi corre l'obbligo di dire le cose che sono state fatte in questi tre anni e mezzo e le cose che non sono state fatte. Chiaramente è un mandato che si interrompe prima della fine naturale che sarebbe stata nel 2021 e quindi ci sono cose che sono in itinere e però queste verranno spiegate tutte quante. Sul fatto che abbia raggiunto o non raggiunto gli obiettivi penso che la questione, quando io potrò vedere la delibera di giunta, sarà valutata in altra sede. Armando Mancini non esclude di fare ricorso contro la regione una volta che sarà formalizzata la sua esclusione. Tra le novità introdotte sotto la sua direzione vi è la telemedicina così che i pazienti possano essere visitati anche a distanza ma anche la battaglia per la salvaguardia dei presidi sanitari di Penne e Popoli in maniera non perfettamente conforme alle intenzioni della giunta regionale. Siamo riusciti a mantenere vivi e vitali che che se ne dica gli ospedali di Penne e Popoli e vi assicuro che non è stato facile con le ristrettezze economiche di bilancio che avevamo non è stato facile mantenere queste strutture così come erano. Mille alberi e scuole plastic free e questa l'agenda verde delle opposizioni Marinella Sclocco e i gruppi del centro-sinistra rilanciano i progetti avviati dalla vecchia amministrazione in questo periodo in cui le questioni ambientali sono al centro della discussione mediatica e per quanto riguarda il caso Soget i testi spiegano a metà per rateizzare le multe e non c'era bisogno di stanza racconta un dipendente a proposito della posizione di Lorenzo Sospiri il processo per i debiti abbonati ai politici niente chiarimenti sull'assenza di procedure di esecuzione per i mancati pagamenti. Nella fotonotizia vediamo il sindaco di Pescara Carlo Masci un nuovo giorno nelle carceri di Chavez di Fabio racconta l'inferno dei dissidenti del presidente venezuelano Maduro Andiamo avanti, sigilli al giambo la Rivera perde un pezzo siamo ovviamente a Pescara una sentenza di fallimento mette fine alla storia gloriosa dello stabilimento balneare ultima creatura del celebre Riberto tutto ruota attorno a un credito di 190 mila euro vantato dal nuovo gestore nei confronti della società concessionaria intanto per quanto riguarda il canottaggio come abbiamo visto il canottaggio in mare è Pescara la capitale presto inizieranno le gare ma sempre a Pescara più posti auto e via di fuga Antingorgo in via Gioberti e andiamo avanti siamo all'Aquila sul festival degli incontri duello biondi Franceschini lettera del ministro assicurare lo svolgimento senza alcuna interferenza o pressione politica la replica del sindaco forse mal informato ad oggi non esiste nulla se sa i dettagli me li dica intanto rotaie della metro pronto il piano per la rimozione intervento costoso ma il comune è fermamente intenzionato a proseguire adesso un'orribile vicenda di croniaca che riguarda il sessismo violenta minore sua parente l'imputato è a giudizio scuole ecco la richiesta al ministro confermato il vertice del primo ottobre nella sede del ministero dell'istruzione così come annunciato da Fioramonti nella sua visita in città saranno presenti i comitati rappresentanti degli studenti gli obiettivi ricostruzione degli edifici e un modello nazionale e intanto per quanto riguarda le infrastrutture statale 17 variante cittadina Marsilio incontra l'ANAS andiamo avanti di Pangrazio ricusato un giudice si infiamma l'udienza in tribunale sul presunto utilizzo in debito di Auto Blue dell'ex sindaco quale dirigente della provincia dell'Aquila secondo le difese il presidente dell'organo collegiale si sarebbe già precostruito un giudizio negativo ora dovrà decidere la corte d'appello e nella Marsica con Avezzano e Celano sono 11 i comuni al voto per questa stagione elettorale che quindi si apre così nella Marsica proseguiamo sul messaggero le pagine di Chieti spaccio di cocaina in carcere un agente va sotto processo l'uomo che è stato per alcuni mesi a Pescara è sospeso dalle funzioni ed è a metà stipendio l'inchiesta è partita da Piacenza dopo il furto di una carta di credito ai danni di un poliziotto e intanto prostituta per forza rumena parte civile l'appello ovviamente è quello di non finanziare questo mercato dello sfruttamento e infermieri e tecnici dell'asl 9000 candidati per 38 posti Tony non ce l'ha fatta sono stati donati gli organi a Lanciano è morto in ospedale dopo 11 giorni di agonia il cameriere Cuoco caduto da 5 metri durante i giochi pirotecnici dai genitori giunti da Palermo un gesto di grande solidarietà è infatti iniziato ieri pomeriggio l'iter per il prelievo degli organi andiamo avanti a Teramo troppi anziani all'ospedale gli altri pazienti sono senza posto l'Adi le RSA e le residenze protette non bastano per assistere la terza età speranze nell'impiego della telemedicina che dovrebbe entrare in funzione a breve Ussini 63 sgomberate ben 40 famiglie il provvedimento arriva dopo 7 mesi l'edificio è stato dichiarato inagibile per problemi di igiene e sicurezza fuori dal condominio anche i proprietari degli appartamenti in due non hanno ancora lasciato l'immobile rischio denuncia per coloro che non sanno dove altro andare e ancora prima di leggere lo sport appassionati non temeteci torneremo dopo ora andiamo sulla città il quotidiano di Teramo Marsilio rimette la Valfino nella Pedemontana incontro con l'amministratore delegato di Anas per accelerare il completamento del collegamento verso le Marche e la Seve il risarcimento per l'operaio che si fece la pipì addosso durante il lavoro intanto Marco Fracassi verso la guida di Confindustria Abruzzo è unico candidato dopo la piena convergenza a livello regionale e territoriale sul suo nome a Teramo superata la prova del concorsone Asla al Palasca si è presentata la metà degli aspiranti al posto fisso da impiegato tecnico della prevenzione tentato furto alla biblioteca a Delfico ladri messi in fuga dall'allarme e dall'arrivo di una pattuglia delle forze dell'ordine e la mobile arresta lo spacciatore creativo eroina cocaina acisce marijuana nascosti tra accendini tubetti e tubetti di medicine e accendisigari per auto quando si dice che la necessità aguzza l'ingegno andiamo rapidamente avanti anzi torniamo sullo sport nell'ordine in cui abbiamo fatto la rassegna stampa quindi torniamo sul centro andiamo subito sulla serie B che ieri è scesa in campo nel primo turno infrasettimanale si conferma la costante del Delfino che incassa sempre gol in questo avvio di stagione il Pescara è sotto tono accusa il centro ma CIN non basta per sfatare il tabù Cittadella primo tempo degranata nella ripresa la reazione dei biancazzurri con il pari firmato dal centrocampista ma poi è Diao a fare la differenza ieri si è giocato a Cittadella nei prossimi giorni la prossima sfida del Pescara è contro il Crotone ieri però è arrivato il KO vediamo com'è andata nel servizio Venturato si conferma l'autentica bestianiera del Pescara che per la quinta gara consecutiva esce dal tombolato con una sconfitta arrivata al termine di una gara giocata con sufficienza solo nella ripresa per i biancazzurri c'è ancora molto da lavorare ma tra poche ore si tornerà in campo per l'anticipo con il Crotone gara in cui i tifosi abruzzesi si aspettano una pronta reazione Zauri lascia a sorpresa Mimusha in panchina a centrocampo fa il suo esordio Ingelson affiancato da Macin Castanos in difesa sulla destra si rivede Balzano che poi si infortunerà in attacco conferma al centro per Brunori fra i Veneti Venturato manda in campo la formazione annunciata con il 4-3-1-2 ma con l'esclusione di Ori dall'undici iniziale la serata mite al tombolato dove ci sono circa 3.700 spettatori l'avvio di gara diretta da Maggione di Lecco vede il secondo subito il gol dei locali con Vita che è servito di tacco da Dio Gela Fiorillo con un tiro angolato che non lascia scampo al portiere pescarese subito in salita dopo pochi minuti la gara per la formazione abruzzese avvio quasi da incubo per il delfino aggredito dai ragazzi di Venturato in ogni zona del campo Zauri si sbraccia dalla panchina per scuotere i suoi ma all'undicesimo Gargiulo con un tiro cross Beffardo colpisce il palo con la difesa abruzzese immobile i biancazzurri sono comunque ora più propositivi ma senza mai riuscire però a concludere veramente verso la porta di Paleari e con il Cittadella così di nuovo pericoloso al trentaduesimo con Selar che sfiora il palo al quarantacinquesimo si infortuna poi seriamente Balzano sostituito da Zappa nella ripresa al quarto dopo un ottimo avvio di secondo tempo i biancazzurri trovano l'uno a uno sugli sviluppi di un angolo uscita a vuoto di Paleari e Palla Macin che di rabbia va a mettere la palla all'incrocio facendo esplodere la gioia di circa 70 tifosi biancazzurri presenti al tombolato in campo si vede ora un altro Pescara che fa la partita con Venturato costretto a sostituire l'infortunato Camigliano per Perticone i giocatori di casa si nervosiscono e fioccano cartellini gialli e con Zauri che invece manda in campo Memushai per Ingerson la gara si scalda con i locali pericolosi al ventitresimo poi con un colpo di testa di Dio che chiama alla parata miracolosa il portiere Fiorillo nelle cittadella c'è in avanti De Marchi per Selar si arriva così alle battute finali della gara con un errore al ventottesimo minuto dei biancazzurri in ripartenza e con il pallone che finisce a Dio che ne approfitta mettendo di potenza alle spalle dell'incolpevole portiere Fiorillo tutto da rifare per il Delfino che con l'ingresso in campo di Maniero per Di Grazia prova l'ultimo sforzo con il 4-3-1-2 gli assalti abruzziesi sono generosi ma confusi e dopo sette minuti di recupero arriva il triplice fischio finale di Maggioni di Lecco il Cittadella batte ancora il Pescara che venerdì all'Adriatico contro il Crotone non potrà davvero sbagliare Ed ora la Serie C il Teramo al Bonolis alle 18.30 parla a mister Tedino che fa turnover Teramo adesso bisogna pedalare dopo il pareggio con il Rende il Diavolo vuole i tre punti con la Viterbese Cianci, Tentardini e LASIC tra le novità leggiamo anche le notizie che riguardano lo sport sul messaggero Pescara non basta Macin l'errore di stampa Cittadella gara subito in salita per i biancazzurri che prendono il gol di vita dopo appena due minuti a inizio ripresa un bolide di sinistro del centrocampista trova il pari a un quarto dal termine rete decisiva di Diao come abbiamo visto e mister Zauri sbagliato l'approccio puniti dagli episodi e il teramo avanti tutta oggi grande sfida al Bolonisi i biancorossi hanno davanti l'osso duro della Viterbese l'obiettivo è tornare a vincere Tedino voglio vedere una squadra rabbiosa caparbia di avversari in formazione che ha entusiasmo e gamba e per quanto riguarda l'Aquila finora è stato un inizio in salita nel campionato di promozione notizie anche dalla serie D Avezzano derby difficile col Pineto Mecomonaco ci sarà turnover e Lanciano Langinzia Luco e un'insidia Miciche attenti a non sottovalutarla andiamo rapidamente anche sulla città il quotidiano della provincia di Teramo che sullo sport quindi ovviamente avrà un occhio di riguardo per la squadra della sua città il diavolo sogna un mercoledì di riscatto in campo al Bonolis con la Viterbese qualche dubbio di formazione per il tecnico bianco-rosso Tedino e il 3-5-2 di Lopez una delle forze della Viterbese Castiga Grandi Castiga Grandi davanti mancherà l'infortunato Tuncara ma il Bari e il Catanzaro sono già state vittime della formazione giallo-blu e 150 dirigenti di società per il via alla stagione grande partecipazione ed entusiasmo alla convention di presentazione al Bella Vista di Roseto e per questo mercoledì 25 settembre è tutto con la nostra d'assegna stampa io vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 con il TG6 grazie per essere stati con noi una buona giornata grazie a tutti